quinto appuntamento per l'agosto de gasperiano 2021 a malga costa all'interno della splenda cornice di arte sella in compagnia del fisico e divulgatore scientifico guido tonelli il professor tonelli insegna fisica all'università di pisa e rappresenta uno degli scienziati italiani contemporanei più noti grazie soprattutto agli studi e al lavoro condotti al cern di ginevra che lo hanno portato ad essere tra i protagonisti della scoperta del bosone di x annunciato nell'estate del 2012 per la sua attività di ricerca e divulgazione ha ricevuto alcune tra le massime riconoscenze civili italiane in occasione di questo quinto sentiero incerto dell'agosto de gasperiano tonelli ha proposto una riflessione sul ruolo che oggi riveste la scienza nel definire e orientare le scelte del nostro presente e la sua capacità di guidarci verso il futuro nel quadro di questa crisi sanitaria senza precedenti la scienza e gli scienziati sono diventati ospiti fissi del dibattito pubblico per un problema davanti al quale la politica stessa ha dovuto mettersi a ruota della ricerca scientifica non sempre però le risposte della scienza hanno soddisfatto le pressanti richieste di verità della popolazione che continuamente si è divisa tra convinti sostenitori della ricerca e scettici oppositori ma davvero la scienza ha fallito oppure in fondo non è stata capita o ancora non è stata in grado di comunicare con sufficiente efficacia il suo messaggio per provare a rispondere a questi quesiti guido tonelli ha condotto il pubblico presente lontano dalle mistificazioni e dai luoghi comuni in direzione di una riscoperta del vero ruolo che la ricerca scientifica ricopre nella società contemporanea come d'altra parte anche dei suoi inevitabili limiti in quella terra di confine tra sapere e mistero dove continue domande prendono forma e stimolano alla ricerca di nuove risposte ultimo appuntamento per l'agosto de gasperiano settimana prossima mercoledì 25 agosto a castellivano in compagnia di marino sinibaldi